Riprende questa partita. Amici sportivi, riprendiamo la nostra telecronica per questi secondi 45 minuti. Le squadre sono già in campo, l'arbitro guarda che tutto è in ordine e in questo momento parte il fischio iniziale. Quindi il Praia che riprende questa seconda parte di questo incontro con il vantaggio di tre reti a zero. E non è facile gestire però un risultato del genere perché poi naturalmente nella testa dei calciatori subentra un po' di tranquillità. Però c'è un altro vantaggio che giocano più tranquilli perché sono in vantaggio di tre gol. Eccolo un lancio per Ramunno da parte di Petrone, va a recuperare la palla di Ramunno, cerca un compagno, ancora sulla palla Ramunno che lotta con un avversario e poi c'è la rimessa con le mani. Diciamo che il Praia Tortola gioca con più tranquillità perché è in vantaggio di tre reti a zero. Quindi la squadra avversaria magari è più sotto pressione perché soccombe di tre reti a zero e deve recuperare qualcosa. Ma quello che abbiamo visto nei primi 45 minuti non è che ha fatto un granché il Geppino Netti per impensierire il portiere marino. Però ci hanno provato ogni tanto con qualche lancio lungo come pure qualche altra squadra. Qui all'omberto di Napoli Tortola lancio lungo e pedalare. Però il Praia Tortola fa le sue belle partite e gioca molto bene. Però se il Praia, secondo il mio parere ovviamente, il mio modesto parere, se il Praia gioca su un terreno più decente magari farebbe vedere cose diverse perché gioca bene con la palla a terra il Praia Tortola. Però il campo te lo deve permettere, altrimenti non vuoi giocare come tu vuoi perché abbiamo calciatori di qualità nelle file del Praia Tortola. Quindi sanno tutti giocare con la palla al piede. Però molte volte le insidie del terreno di gioco ti creano dei problemi. C'è questa rimessa che l'arbitro dice che è per il Praia Tortola, anche se non sono d'accordo i giocatori del Geppino Netti. Alla battuta vediamo il numero 6 Arginò. E poi Orsino lascia la palla agli avversari. Il pubblico che si ribella ogni tanto per quanto riguarda le decisioni arbitrali, però ci sta. Il pubblico è fatto così, naturalmente, che tipa per la propria squadra. Petrone viene stratturato dalla maglia, ancora Petrone cerca di scambiare con Ramunno, non vi riesce. Riparte il Geppino Netti. Poi c'è Stamato che cerca di recuperare, recupera palla, scambia al centro con Petrone, non vi riesce lo scambio. E ancora Stamato che cerca di smistare su un compagno smarcato. Trova Arginò, Arginò su Gabriele. Orsino, Gabriele, Gabriele va in avanti, deve superare un avversario, poi scambia con Petrone. Petrone viene fermato da un difensore avversario. Poi recupera Caruso. In avanti Caruso per Gabriele che non riesce a stoppare la palla di petto. E la sviricola in fallo laterale. Siamo nelle prime battute di questo secondo tempo. Vi ricordo che il risultato è sempre il 3-0 per il Freya Tortora. Ancora battere i batti e poi c'è il Capitano Papa che scambia con Mandarano. Lancio lungo di Mandarano per Petrone, ma sbaglia l'appoggio. Comunque si lamenta un po' Petrone, però può succedere che il lancio non è preciso. rinvio del portiere Caroli. Arginò che si appresta a battere una rimessa con le mani. E ancora un'altra rimessa per il Preya Tortora. Petrone viene marcato stretto sotto, ecco, viene proprio strattonato. Guarda, l'avversario ha dato un colpo di testa nella schiena di Petrone, proprio sotto di noi. È strano che non si è ribellato Petrone, meno male che non si è ribellato, perché poteva succedere qualcosa. E l'abbiamo visto proprio sotto la nostra postazione, si è visto limpidissimo il colpo di testa nella schiena di Petrone. L'albligo non si è accorto di niente, ovviamente. Meglio così, perché è stato già manito Angelo Petrone. Quindi rischiamo di rimanere in dieci. Vai in avanti, si impola in avanti Petrone. Questo tiro inverso la porta che respinge il portiere di pugno. Bellissimo, bellissimo questo tiro di Angelo Petrone. Ce l'ha messa tutta per poter segnare, ma il portiere si è opposto con i pugni. E quindi ha allontanato la minaccia. Geppilonetti che cerca di impostare un'innovazione. Per loro in avanti, attenzione, c'è Argerò che allontana. C'erano due uomini del Geppilonetti che potevano impensarire Marino. Rimesso con le mani per il Geppilonetti che si affretta. Cominciano a velocizzare un po' queste battute gli ospiti. Per poter recuperare qualcosa. Ma la difesa del Praia Tortore fa buona guardia. E quindi allontana le minacce. Riparte Petrone. Petrone che ha un'autostrada davanti a sé. Va Petrone, poi si ferma. Fa una piruletta. Scambia con Orsino sul lato sinistro. Orsino deve mettere la palla al centro. Scambia con Argerò. Argerò che si interessa in l'aria. Argerò, bello questo tiro di esterno sinistro. Argerò che si è inserito. Molto bello. Era andato a rimorchio Argerò per quanto riguarda questa azione del Praia. Quindi con questo sinistro, con l'esterno sinistro, ha sfiorato la traversa. Bella. È una bella azione del Praia Tortore. Comunque poi dobbiamo dire che pure Danilo Argerò ha un buon sinistro e si inserisce molto spesso in avanti. Praia che sta giocando ancora molto molto concentrato, dobbiamo dire, perché evidentemente vuole allungare ancora il risultato. portarlo sul 4-0. Però staremo a vedere come va a finire e come si comporterà l'avversario ovviamente, perché l'avversario non ci sta a soccombere con questi tre reti a zero. Però stanno cercando di imbastire qualche piccola azione, qualche pensiero per la porta di Marino, ma ancora non ci sono riusciti. Perché il Praia sta giocando molto bene questa partita perché, come ho detto tante volte e lo ripeto ancora, non bisogna mai, c'è fallo, non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Né se è centro classifica, né se è ultimo, eccetera, eccetera. L'avversario va sempre rispettato e affrontato con le giuste maniere, diciamo. Battuta la punizione da Papa e il Capitano su Caruso. Lancia in avanti di Caruso per cercare Petrone, ma è troppo lungo il passaggio e blocca il portiere avversario. Ancora batte e ribatti e poi il numero sei che cerca di andare in avanti. Apre sulla fascia sinistra, ma ha buttato la palla fuori perché c'è un giocatore a terra qui del Praia Tortora. L'albero che si avvicina per assicurarsi cosa è accaduto al calciatore. Comunque rimane a terra incinucchiato e poi arriva il soccorso della panchina. Il numero otto, Chico Mandarano. Speriamo niente di grave per Chico perché è un elemento molto valido. Adesso si è rialzato e a quanto pare può riprendere a giocare. Comunque adesso devo uscire dal campo perché la prassia è questa. Una volta che viene soccorso dai massaggiatori, poi deve chiedere all'arbitro di rientrare. Queste sono le regole del calcio. Eccolo qua, rientra in campo Chico Mandarano che ha fatto la sua buona parte fino a questo momento come anche i suoi compagni. Papa di testa, Gabriele che è l'otto e mezza a due, c'è il pallo e quindi si riprende con una calcio di punizione. Alla battuta Papa, il capitano del Prea Tortora. Aspetta che si piazzano i suoi compagni. Guarda un po' dappertutto dove poter appoggiare questa punizione. Niente, Caruso chiama la palla all'indietro. Ma è meglio calciare in avanti. Eccolo qua, arriva il pallone in avanti. Ha cercato Ramuno ovviamente, però Argerò protegge palla. Ancora Argerò che lotta. Bravo Danilo. Gabriele. Vai in avanti, cerca un compagno. Cercava Petronio ma è lungo il passaggio. Ancora Caruso. Orsino. Gabriele. Danilo e Argerò. E c'è stato un bello scambio per quanto riguarda il Geppino Netti. Tutto di prima. Però poi la difesa del Prea blocca tutto. Quindi c'è questa punizione causata dal capitano del Prea nei confronti di un avversario. E si riprende con questo calcio di punizione per il Geppino Netti. Siamo giunti all'undicesimo del secondo tempo. Il Prea è in vantaggio sempre per tre reti a zero. Si stiera la difesa del Prea Tortola. Cercare di chiudere gli spazi per quanto riguarda gli avanti del Geppino Netti. Si aspetta la battuta. La barriera è stata già fatta. Ha piazzato la barriera. Marino parte il tiro lungo e sorvola. Sorvola. Di tanto sorvola questa traversa. È andata a finire dopo le mura le mura di scinta del Umberto Napio di Torsa a recuperarla poi. E sono diciamo dolori per Roberto. Robertino. Robertino che vai a recuperare il pallone. nelle cose qua nelle rovie. Eh sì ci sono degli alberi pure chissà se è rimasto imbiliato su qualche ramo d'albero oppure se è caduto a terra. Comunque questi sono problemi di Robertino. C'è un cambio. C'è un cambio quindi Mandarano viene sostituito. La SD Praia Tortola sostituisce il numero 8 Chicco Mandarano. Vediamo chi è reentrato al posto di Chicco Mandarano. con il numero 17 Mattelicani Mattia. Il 17 Mattelicani al posto di Mandarano forse è rimasto un po' cercato per quel colpo che ha preso prima però ha fatto la sua parte e quindi adesso gli tocca un meritato riposo. Esce Garuso per l'alpieda la difesa del Praia Tortola poi Gabriele argirò in avanti per Ramunno ma il passaggio non è preciso. Si riprende con questa remessa con le mani a quanto pare sotto la mia postazione c'è qualche tiposo del Geppino Netti perché a come parlano si sente all'accento Cosentino che poi non ho capito dove si trova questo paese Geppino Netti Marano Calopro mi suggerisce Fabio e quindi ma Marano Calopro è un comune e Geppino Netti è un altro comune ha il nome il nome allora il nome della squadra è Geppino Netti per il paese Morano va bene abbiamo chiarito anche questo inghippo questo problema volgare che c'era comunque vabbè sono tutti i paesi per quanto riguarda l'altro tirreno cercava di entrare in avanti ancora il Praia Tortora Natale Cani che per Stamato che stoppa di petto però si allunga troppo la palla e finisce tra le braccia del portiere Caroli ci ha provato con questo stop di petto Stamato che non è la prima volta che si inserisce in aria spesse volte anche lui arriva a rimorchio dei suoi compagni e risolve le partite c'è questo volato in avanti per Geppino Netti poi si ferma tra persone che viene ribattuto dalla difesa del Praia Torti e ancora un altro tiro che sorvola di parecchio la difesa e la porta di Marino e sta cercando di fare qualcosa Geppino Netti sta cercando di portare qualche insidia alla difesa del Praia però con questi tiri sbilenghi non è che possono creare chissà che cosa insomma loro ci provano e se va va altrimenti rimane così ma cercano di fare gioco ma la difesa praiese è ben preparata è ben piazzata e quindi non riescono a portare insidie al portiere Marino che è un grosso portiere come dicevo prima con una grande esperienza allora c'è questo parone in avanti per Pedroni che viene fischiato il fuorigioco dall'arbitro lui dice che non è fuorigioco invece l'arbitro è fermo sulla sua decisione naturalmente forse ha visto meglio l'arbitro comunque 15 minuti della ripresa ancora 3 a 0 per il Praia Tortora vediamo se può arrivare la quaterna si arriva il quarto gol comunque tutto è possibile Londana Papa poi Mattelicani Pedrone che non arriva sulla palla e c'è ancora un pallone lungo per i Giappironetti che va nelle braccia di Marino Marino che non ha corso nessun pericolo fino ad adesso normale amministrazione ed eccolo qua che esce fuori dall'area di rigore per lanciare questo pallone in avanti Gabriele recupera palla Gabriele si deve girare viene ostacolato dall'avversario poi va a terra l'arbitro fischia la punizione e vediamo chi è che va alla battuta ho visto l'arbitro che si sta toccando un po' la coscia destra evidentemente forse ha risentito qualche dolorino non lo so la palla è piazzata a terra e va Petrone alla battuta prepara la palla a terra vediamo che cosa esce fuori da questa punizione gruppo in aria giocatori sei a Praiesi e Tortorese con quelli del Giappilonetti tutto è pronto aspetta Petrone il fischio dell'arbitro eccolo che arriva parte Petrone ma ribatte la barriera e quindi nulla di fatto recupera Stamata per Orsino Orsino che mette a centro un pallone in aria di rigore allora Petrone Petrone cerca di girarsi Petrone dribbla un avversario ancora Petrone 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 niente il pallone che è stato calciato sul portiere e poi dopo c'è una mischia che l'abbero ferma il gioco ha visto qualche scorrettezza e quando parte in questi dribbling Petrone è veramente qualcosa di eccezionale è un divertimento vederlo giocare è un divertimento sia per noi che commentiamo sia per i tifosi che sono sugli spalti naturalmente poi c'è anche il momento che viene atterrato perché solo così lo puoi fermare altrimenti lui entra in porta con il pallone nei piedi vediamo che forse eccolo qua esce Caruso è al suo posto vediamo chi entra un'altra associazione per il Praia Tortora e beh adesso far ruotare un po' gli suoi uomini Roberto Mandovana perché con un vantaggio di tre a zero il Praia Tortora sostituisce il numero tre Roberto Caruso il numero nove Ramuno con il numero 16 Gentile se non sbaglio con il numero 18 Forte Andrea il numero 16 Gentile allora abbiamo visto che è entrato in campo Gentile il numero 16 al posto di vediamo se la regia mi aiuta di Caruso allora annotiamo Gentile è Forte al posto di Ramuno allora annotiamo anche Andrea Forte sul Tequino e beh adesso aspettiamo che Andrea Forte ci fa qualche delizia col suo mancino col suo sinistro perché è un bomber di razza e vediamo se riesce a mettere a segno la quarta rete per il Praia Tortora anche perché è bello fresco siamo giunti quasi al vendesimo quindi sono 25 minuti ancora da giocare e sicuramente Andrea qualche palla la insaccherà di sicuro cerca di andare in avanti il Geppino Netti ma c'è Magnone che allontana e beh come dicevo prima è giusto che Manduano può girare i suoi calciatori perché bisogna dare spazio anche agli altri anche perché il risultato ormai è bello rotondo e quindi però questo numero 16 che va tranquillo Andrea si era inserito in aria aspettava la palla numero 16 gentile è un under anche questo ragazzo ancora in avanti il Geppino Netti ma poi c'è Magnone che cerca di fermare l'avversario e poi un tiro scagliato alla kamikaze così tanto per provarci però con questi tiri non se ne aggiunge nessun risultato quindi abbiamo visto questo gentile che è il numero 16 sotto la mia postazione mi suggerisce Fabio che potremmo battezzare come insigne molto simile molto simile e molto tipico vabbè comunque sono giovani di giovani da farli giocare perché sono giovani che sanno giocare a calcio e bisogna aiutarli a farli crescere inserendoli in queste partite e fargli fare diciamo un po' esperienza che piano piano cresceranno anche loro perché naturalmente è previsto che devono giocare due under in una formazione e quindi Manduano li lancia questi giovani anche perché dobbiamo spendere qualche parola su Manduano attenzione attenzione cioè quella parata di se erano fermati i giocatori del Prea Tortora perché evidentemente chiedono qualcosa all'albero che c'è stata qualche scorrettezza però ecco ci chiedevano il fuori gioco mi suggerisce Fabio però loro hanno continuato e hanno rischiato di fare il gol perché c'è stato Marino che è riuscito a allontanare la palla però sono tutti fermati e non bisogna fermarsi in questi momenti perché l'albero deve fischiare se non fischia l'albero è inutile fermarsi cari cari calciatori del Prea Tortora dovete sempre andare avanti e non fermarsi perché se l'albero non fischia la squadra avversaria non si ferma perché se non sente il fischio dell'albero va avanti e può creare pericoli comunque è andata bene così è andata bene così speriamo che non non viene fatta nessun'altra stupidaggine per quanto riguarda questi lanci lunghi che fa il Geppilonetti che gioca tutto a Roccati in difesa e poi lancia questi palloni lunghi e quindi non è un gioco che però bisogna stare attenti che loro ci provano ovviamente mancano ancora parecchi minuti alla fine di questo incontro e loro cercano di ricavare qualcosa diciamo di almeno di segnare qualche gol allora parlavamo di Roberto Manduano e Roberto Manduano dicevo questi ragazzi che l'hanno perché lui prima di guidare questa squadra di prima categoria del Prea Tortora ha un passato con i giovanissimi quindi ha tirato su dei giovanissimi e quindi sa come gestirli e come farli giocare traversone in area del Prea Tortora allontana la difesa poi ancora Geppilonetti cerca di andare in avanti con il numero 2 Colombo e poi la palla finisce a fondo campo e quindi dicevo che fa bene farli giocare questi under anche se perché è previsto che devono giocare almeno due under e quindi lui un po' a rotazione fa giocare una volta una volta un'altra e hanno spazio anche loro ed è giusto così Orsino Gentile che va sulla fascia Gentile Gentile entra in area Gentile poi con una spellata viene atterrato qui c'è calcio di punizione caro arbitro e no 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 non mi sta bene non mi sta bene perché lui è un colosso Gentile è piccolino però con una spellata si è vista bella chiara la spellata l'ha buttato giù e neanche la punizione è fiscata dall'albero caro albero caro Iaccino mi dispiace in questo momento hai sbagliato hai sbagliato secondo me ma pure secondo i tifosi qua in tribuna ci sono fatti sentire forte sulla palla viene strattonato e dice all'albero ma come devo giocare se quello mi tira dalla maglia attenzione c'è il numero 11 avversario nel rigore e poi c'è il fuorigioco fuorigioco comunque qua c'è un battibecco continuo dei tifosi dei calciatori in campo Fabio mi conferma che non c'era il fuorigioco però è uno gioco all'aruletto perché senza guarda linee federali non si può andare avanti così e quindi gli errori ci stanno comunque il Praia va in avanti Andrea Forte scambia in aria con Petrone 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 peccato Petrone che viene fermato dal portiere Petrone si era incuniato in aria di rigore ha fatto un bel slalom e poi in uscita il portiere ha bloccato sui piedi di Petrone che era arrivato proprio in porta come dicevo prima lui entra anche in porta con la palla però questa volta gliel'ha impedito il portiere Caroli ancora Andrea sulla palla cerca questo tiro di Andrea bellissimo bellissimo traversone di Andrea in diagonale ha cercato di mirare sul secondo palo del portiere avversario non vi è riuscito la palla è passata di poco vicino all'ingrocio dei pali e Andrea ci ha abituato con queste sue volé così possiamo dirle questo tiro una volé con il piede mancino siamo giunti al 26esimo del secondo tempo ancora il Praia in vantaggio per 3-0 e il Gepinonetti comincia a prendere un po' di coraggio in più in questi minuti sta cercando di portare qualche passiva a Marino ma ancora niente di fatto però il Praia pure va in avanti con decisione perché vuole arrotondare il punteggio di questa partita adesso c'è una rimessa con le mani di Argyro si fanno vedere Petrone e stoppa male la palla poi la perde e riparte il Gepinonetti lungo lancio di una volta sempre sempre del numero 6 Aita a servire i suoi in avanti ma recupera Mattelicani Petrone Mattelicani che si fa vedere Andrea Forza che riceve il passaggio ancora Petrone 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 cerca di entrare Petrone e poi vediamo c'è questo Petrone Petrone porta 4 i gol del Praia Tortora e poi arriva il gol numero 4 Angelo Petrone numero 10 ASD Praia Tortora 4 Gepinonetti 0 bene allora annotiamo anche al 27esimo il gol di Petrone annotiamo sul nostro tacquino Petrone che ha segnato il suo gol personale e vabbè se lo meritava se lo meritava perché fino ad adesso ha fatto una bellissima partita ha preso ha preso un sacco di palli spendoni eccetera eccetera e quindi questo è il premio che si meritava con questo bellissimo diagonale finalmente ha insaccato il quarto gol del Praia io mi aspettavo forse il quarto gol di Andrea Forte ma ci ha pensato Petrone però ancora è tutto da giocare perché siamo giunti al 28esimo quasi alla mezz'ora di questa ripresa c'è tempo ancora per Andrea con il suo mancino maligno magari a mettere a segno la cinquina diciamo così c'è dispiace che sotto la nostra postazione sono tre o quattro tifosi del Gepinonetti che ogni tanto si agita un po' però purtroppo il Praia è superiore come squadra gentile che viene fermato e dico il Praia sta facendo eccolo qua che ruba palla il Arcirò Arcirò no non è Arcirò gentile ha rubato palla e poi il pallone che viene ribattuto c'è una mischia in aria e poi c'è il quinto gol arriva il gol numero cinque numero quattro segna Orsino beh dobbiamo annotare anche il nome di Orsino al ventinovesimo Orsino che porta cinque le reti del Praia Tortora beh io c'è stata una confusione là in aria non si è capito niente perché batte ribatte batte ribatte e poi la palla è andata a finire in rete con il tocco di Rossino e vediamo e vediamo dalla panchina del Praia Tortora che si alza un altro panchinaro vediamo chi esce esce il numero undici Gabriele e vediamo vediamo chi entra il numero diciotto se non è errato il numero diciotto no il numero diciotto è forte niente non si gira il numero diciannove diciannove campagna tanto allora il diciannove campagna al posto di e qua sotto c'è un po' di di marette tra i tifosi che stanno bacagliando ma è inutile bacagliare perché il ponteggio è bello rotondo quindi bisogna dare anche atto ai tifosi avversari di fare per la propria squadra e non criticarli magari e spotterli perché il calcio è uno sport quindi bisogna accettare anche i tifosi avversari che vengono a vedere le partite però a fare questi battibecchi quando c'è un un vantaggio di 5-0 sono proprio inutili questi battibecchi comunque si sta calmando tutto e lo sono soltanto battibecchi punti di vista magari da una parte e dall'altra però le acque si sono calmate un pochino quindi siamo giunti al 31esimo Cinguina per il Praia Tortora e quindi adesso bisogna amministrare soltanto i risultati diciamo per far scorrere i minuti per che arriva alla fine di questo secondo tempo ancora un rinvio della difesa del Praia Tortora Argerò che appoggia su Gentile ma non riesce ad agganciare la palla rimessa per i Geppironetti il numero 6 che scambia con un compagno vai in avanti il numero 10 De Luca e poi c'è il capitano che recupera palla e allontana Stamato ancora che protegge la palla in mezzo a due avversari lotta per il recupero della palla e poi il Geppironetti guadagna questo calcio d'angolo vediamo la battuta del calcio d'angolo ma c'è stato un passaggio tra ieri recupera la difesa del Praia Tortora e poi questo tiro sbilengo che non impensalisce nessuno recupera Marino e va avanti Andrea Forse cercava di agganciare ma non vi è riuscito poi sta pressando l'avversario per recuperare ma comunque io penso che prima che finisce questa partita Andrea Forse insaccherà anche il suo golletto gentile che scambi come un'Argirò che lancia in avanti e poi c'è una rimessa per il Praia Tortora alla battuta Argirò trova smarcato Petrone restituisce la palla ancora Petrone che riceve e poi si intromette il numero due Colombo il numero 13 del Gepinetti sta per andare in avanti ma viene fermato dal capitano che poi rimane a terra nello scontro e si tratta di crambi l'arbitro ha chiamato la panchina per massaggiatore c'è un compagno che sta aiutando per quanto riguarda i crambi il capitano papa ma quando pare stava uscendo anche Marino il portiere titolare e subentra al suo posto il giovane Fondacaro siamo giunti così al 34esimo del secondo tempo la SD Praia Tortora sostituisce il portiere esce il numero 1 Marino entra il numero 12 Fondacaro un applauso a questo giovane che va a difendere i pari della porta del Praia Tortora per la prima volta lo vediamo in campo anche perché Marino è un mostro sagro se lo possiamo dire però oggi fa la sua parte anche il portiere dice il 12esimo Fondacaro quindi si riprende a giocare dopo l'importunio che ho corso al capitano che si è rialzato e in questi ultimi minuti sta cercando di velocizzare un po' il gioco il Giopponetti però non è che arrivino a conclusioni diciamo concrete cercano di dar fastidio alla difesa del Praia però con un nulla di fatto perché il Pondeccio è rotondo sono cinque e addirittura io questa mattina sotto il viale ho incontrato il presidente Massara gli ho detto oggi quanti cose facciamo non lo so ho detto vabbè non lo so perché non si è potuto sbilanciare dice pure 1 a 0 mi sta bene così e con questi tre punti odierni il Praia sale in classifica a quota 30 punti 30 punti Fabio mi fa segno il cronometro non ho capito ancora presto perché ancora c'è tempo per mettere segno qualche altro qualche altro gol vabbè io aspetto il gol di Andrea Forte perché sono tifosissimo di Andrea lo sapete tutti che è il mio bomber preferito però il tempo di disposizione c'è vediamo poi se ha la palla giusta per fare il gol va in avanti il Giappino Netti il numero decennale tiro e poi c'è quest'altro tiro ribattuto del difesa del Praia Tortola c'è un calcio d'angolo per il Giappino Netti va alla battuta vediamo un po' il numero 14 il Giappino Netti anzi no poi lascia la battuta al numero 2 Colombo che batte questo calcio d'angolo per il Giappino Netti vediamo come si svolge questa eccolo qua il pallone che arriva in aria poi di testa cerca un attaccante di impensire qualcosa però non ci riesce parte e riparte nuovamente Petrone Petrone che cerca di scambiare con Gentile poi si intromette Matellicani Matellicani va in aria lungo il pallone perché poteva creare un grosso pericolo al portiere Caroli e riparte ancora il Giappino Netti passaggio indietro di Argerò al portiere che apre su Stamato Stamato aspetta la palla dal compagno la riceve in questo momento cerca di lanciare qualcuno dei suoi poi deve tornare indietro e poi ancora un passaggio all'indietro per il portiere Pondacaro che è entrato da qualche minuto e beh adesso c'è un po' di melina per quanto riguarda la squadra praiese tortorese perché con 5 a 0 in zacca quindi più di questo magari non per non infierire troppo sull'avversario perché è un peggio molto pesante dobbiamo dire che io non mi aspettavo onestamente che oggi poteva Praia a torta segnare 5 gol e comunque è successo e quindi ogni tanto un po' di melina per far scorrere il tempo disponibile si fa pure ancora il numero 6 che giusta sulla palla scambia con il numero 5 e anche loro cercano di sbrile la matassa al centro campo ma non più riescono quindi non si capisce un po' batte e ribatti però non c'è niente di concreto c'è il fisco dell'arbitro vediamo un po' c'è un'altra sostituzione da parte del Geppino Netti esce il numero 10 di Luca F entra il numero 16 il numero 16 vediamo un po' Rosito con il numero 16 si riprende con questa rimessa con le mani Petrone scambia con Orsino all'indietro per Magnone lancio in avanti di Magnone a servire qualcuno dei suoi c'è anche Andrea Forte vicino alla palla però allontano un difensore Petrone Petrone per Andrea Forte Andrea entra in area Andrea Andrea gli viene soffiato il pallone del piede sinistro e poi questo difensore che allontana la minaccia del Praia Tortora però non è finita qua non è finita qua perché il Praia ancora rimane in avanti Argero Orsino Papa Magnone Mattelicani Mattelicani guarda c'è in avanti c'è Gentile che riceve in questo momento e non vedo bene se non è è uscito fuori il pallone che non vedevo bene l'angolo ma la palla è uscita quindi c'è stata la rimessa per il Geppino Netti ancora Papa cerca di ostacolare un avversario Magnone apre per Orsino poi un rimballo favorisce Gentile bello questo tocco di tacco di Gentile si fa vedere Petrone ma ancora non riceve poi c'è Orsino che va a recuperare questa palla la mette al centro e poi c'è dipensore del Geppino Netti che allontana lancio lungo in avanti e c'è una rimessa con le mani per il Praia Tortora vediamo un po' la battuta ci avviciniamo ecco qua siamo arrivati al 41esimo mancano 4 minuti al termine più recupero se ci sarà però penso che non ci sia tanto recupero perché c'è stato poco tempo perso da ambo le parti quindi forse saranno un paio di minuti di recupero non lo so nel primo tempo non ce n'è stato però bisogna vedere poi cosa dice l'albitro allora batte e ribatta ancora il centrocampo ma va in avanti il Geppino Netti questo numero 13 che viene parato deviato da il partiere del Praia Tortora il bravo Fondacaro che in uscita ha salvato la porta del Praia Tortora è rimasto a terra un giocatore del Geppino Netti ha fatto una bella uscita questo ragazzo quindi ha salvato il risultato perché poteva mettere a segno il gol della bandiera del Geppino Netti il numero 13 il numero 13 di Luca A ci sono tre di Luca in questa formazione e si riprende a giocare con una punizione a favore del Praia Tortora che va alla battuta lo stesso Fondacaro portiere di riserva del Praia Tortora anche lui Mangino Petrone va in avanti poi si ferma e nel rimballo guadagna un fallo laterale rimessa sul Gentile Gentile viene fermato ancora recupera Gentile apre dall'altra parte su Magnone Stamato Mattelicani Mattelicani apre per Petrone viene fermato Mattelicani però l'albito lascia correre per il momento si rialza Mattelicani e si dovrebbe riprendere con una rimessa con le mani per il Geppino Netti Papa Mattelicani apre per Magnone Mattelicani ancora per Stamato e poi c'è questa rimessa per il Praia Tortora siamo arrivati proprio gli sgoccioli di questo incontro siamo al 43 aspettiamo soltanto i minuti finali per chiudere questo incontro sul punteggio di 5 a 0 per il Praia Tortora voglio ricordare ancora una volta le segnature nel primo tempo nel primo tempo al settimo apre le marcature Gabriele poi al dodicesimo raddoppia Mandarano al ventitresimo Ramuno di Testa poi al ventisettesimo Petrone al ventinovesimo Orsino e il primo tempo si è chiudo sul 3 a 0 poi dopo gli altri due corse sono stati messi a segno nella seconda parte di questo incontro come dicevo prima siamo proprio degli sgoccioli guardiamo un po' se l'arbitro guarda in questo momento guardate il cronometro vediamo se segna diciamo recupero oppure no però il Praia è in avanti in possesso di palla e poi c'è un'altra rimessa con le mani a favore del Praia Tortora vediamo che va la battuta va la battuta Argyro rimessa avvenuta in questo momento gentile all'indietro per Papa controlla tutto Papa poi si chiama con Magnone Magnone su Stamato che si accascia a terra Stamato subito un colpo alla caviglia ma si continua a giocare e si sta rialzando ecco qualcuno diceva gioca gioca quindi si continua a giocare gentile bravino questo ragazzo bello questo lancio di gentile a servire chi? il numero 18 Campagna e in questo momento l'albitro pischia la fine dell'incontro a questo punto amici sportivi io vi ringrazio per l'ascolta risentirci alla prossima l'arbitro dice che può bastare così per questa partita termina così ASD Braia Tortora 5 Cepinonetti 0 ringraziamo a tutti per essere venuti in piano perdonante e sostenere la nostra squadra ci vediamo alla prossima buona serata a tutti l'arbitro dice l'arbitro dice Grazie.